La Roma 1927 Futsal passa anche al pala Cosenza e prende i primi tre punti in trasferta di questa regular season nella seconda giornata della Serie A maschile la formazione di Daniele D'Orto batte per 6 a 3 la pirossigeno Cosenza in una partita scoppiettante ricca di gol ben 9 che adesso andiamo a rivedere. Il match viene sbloccato da Marcelinho che sfrutta con il suo mancino la prima vera grande occasione per la Roma non si fa attendere però la risposta della pirossigeno Cosenza che pareggia subito con Cabeza. Gli uomini di Leo Tuoto annusano il fatto di poter artigliare ancora una volta la Roma e allora contropiede perfetto con Gustavo Bavaresco che fa 2 a 1 la formazione di D'Orto però cerca e trova quasi subito il gol del 2 a 2 bellissimo il sinistro al volo di Rodolfo Fortino sugli sviluppi di calcio d'angolo. Questo gol risposta gli equilibri della gara e allora ci pensa Lucio Avellino a fare 3 a 2 per la Roma. È una fase di gara molto favorevole ai giallorossi tanto è vero che arriva anche il gol del 4 a 2 con Nino Esgro che ruba palla chiude il triangolo con Dimas e la deposita dalle spalle di Del Ferraro per quello che è il gol che manda le squadre all'intervallo con il parziale di Pirostigeno Cosenza 2 Roma 4. La seconda frazione di gioco si riapre ancora con la Roma con il piede sull'acceleratore Esgro per Fortino sinistro sul primo palo del Ferraro non perfetto e arriva il gol del 5 a 2. La Roma continua a spingere e trova anche il sesto gol su uno schema perfetto da calcio di punizione. Il gol del momentaneo 2 a 6 lo realizza Biscossi mettendo il pallone là dove si è aperto un varco tra le maglie della Pirostigeno Cosenza. è il massimo vantaggio che raggiunge la Roma all'interno di questa partita? Il gol del 3 a 6 di Cabeza bellissimo uno dei gol più belli all'interno di questa seconda giornata di campionato serve soltanto alle statistiche e probabilmente anche alla top gol settimanale della divisione calcio a 5. al pala Cosenza passa la Roma 1927 Futsal per 6 a 3 sale a quota 6 punti e rimane nel vagone di testa delle squadre a punteggio pieno.